Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot Back to the Fit che è il nuovo album di DJ Jump che abbiamo al telefono con noi, buon pomeriggio Buon pomeriggio Paolo a tutti gli ascoltatori Ma quanto ci stai facendo ballare con questo album e quanto sta andando bene? Ma guarda, ci proviamo dai, insomma abbiamo messo sul mercato 14 singoli dai, speriamo che almeno uno vi faccia ballare Ma sicuramente, allora niente, come dicevo poco fa hai avuto la brillante idea di raggruppare quelli che sono i capisaldi della musica italo-dense anni 90-2000 Quella che ci ricordiamo bene noi, trentenni soprattutto, che ci sentiamo già vecchi E li hai raggruppati con questi inediti e non erano... Se tu sei vecchio dico tu di suo nonno allora Non ti chiedo nulla sulle tue cose personali Ho 41 anni quindi non sono molto vecchio dai, sono ancora giovane La musica poi mantiene giovani quindi... Esatto Ecco hai avuto questa brillante idea e poi non era facile restare fedeli appunto a quel sound anni 90-2000 Intanto com'è venuta l'idea? Allora l'idea è venuta dopo Memories, l'anno scorso che abbiamo fatto insieme a Natalia Art Abbiamo visto che ha riscosso un sacco di successo sia nel dance floor quindi nelle discoteche ma soprattutto anche nel radio E niente da lì siccome comunque con loro con tutti quelli, tutti i featuring che ho all'interno dell'Avo Comunque manca un buon rapporto anche d'amicizia negli anni coltivato Comunque io ho cominciato a fare dischi nel 96 quindi non è che inizio da oggi a fare musica dance Diciamo che adesso mi faccio conoscere col mio vero nome, una volta si usavano più pseudonimi nella dance Perché comunque il marchio poi era legato all'etichetta, era più il casino per svincolarsi Tutta una serie di cose burocratiche Adesso, beh niente, dopo Memories ho parlato con Rossano che è il mio editore, che è DJ Ross Che mi era venuta questa idea, si mi dava una mano a realizzarla E ho contattato i cantanti, erano tutti molto entusiasti perché comunque era un'idea abbastanza fresca e nuova Inizialmente si era balizzata l'idea appunto di fare delle mix Però io avevo già l'intenzione di fare degli inediti E abbiamo cercato appunto di fare degli inediti sulle loro canzoni storiche Quindi il DJ Ross della situazione è molto simile all'emotion di qualche anno fa Pure, non so, Naja, Restless, Erika appunto Relation Senza snaturare quello che sono poi loro e sono ancora tuttora nelle discoteche in Italia Quindi ho cercato di dare quel tono più attuale 2019 diciamo Tenendo sempre comunque fede all'artista che avevo davanti Ci sei riuscito e devo dire che ci sono delle voci meravigliose Perché la dance una volta forse è complice anche il fatto che si usava forse un po' meno il computer Non lo so, dimmelo tu Ma c'erano dei cantanti con la C maiuscola dietro a questi grandissimi successi Mi viene da pensare a Corona che se non sbaglio la voce iniziale era di Jenny B, no? Esatto, bravissimo, sì, sì, sì Quelle che io ho all'interno del mio album per fortuna sono tutte le voci originali dei loro progetti E tra l'altro vi posso assicurare, adesso senza fare i nomi perché sono tutti bravi Se no magari si attendono anche Però hanno tutte le gran voci Vi posso assicurare che io che le ho registrate dal vivo Cioè ci sono alcuni che in un quarto d'ora mi hanno fatto il take Quindi siamo a questi livelli Cioè sono di un livello di professionalità pazzesca Sono le poche voci veramente della dance Che sono rimaste pure e nude e crude come sono E hanno delle voci incredibili Cioè Jeffrey J suono su tutti per dirvi Certo Ma ascolta, come mai secondo te c'è questa voglia del ritorno al passato? Si guarda tanto agli anni 90-2000 La dance di adesso non piace più Che cosa c'è che è cambiato secondo te? Ma è cambiato il fatto che secondo me la gente vuole divertirsi Essere più spensierata E quindi quella musica lì in qualche modo ti dava la possibilità di divertirti Cantare, insomma saltare Dare sfogo al tuo Cioè tutti i problemi che uno ha in questo momento in Italia Ma soprattutto nella propria vita personale magari Poi li sfoga con la musica E l'iscoteca deve essere un momento in cui uno va a divertirsi E siccome in quei dischi In quegli anni là dove noi eravamo i numeri uno al mondo Con i vari Gigi D'Agostino eccetera 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 Faccevano divertire E secondo me la gente voleva divertirsi In questo momento ho tornato la voglia di quei tipi di dischi di Poi mi hanno aiutato sicuramente la trap Il reggaeton Il disco deep un po' più lento A 124 Sono tutti dischi che vanno molto bene per la radio Ma molto meno nel dance floor Tant'è vero che per ballare un disco Magari non so Dell'artista straniero famosissimo Bisogna sempre fare un bootleg o comunque un remix Perché sennò è imballabile Certo c'è Ma allora tu che frequenti le discoteche Quindi ne vedrai anche tanti di giovani Quando si suona questa musica qui I ragazzi di adesso l'apprezzano? Come li vedi di fronte a questa musica anni 90? Io faccio sempre questo esempio Memories è un disco Se uno lo sente un po' 2000 Style Attuale Con i tuoi suoni attuali Quello l'ho sempre messo quest'estate in piazza o in discoteca I ragazzini di 16 anni lo cantavano a sguarciagora Quindi non è vero che non sono recettivi Con la musica un po' dei Noi Giorni Nostri Anzi tant'è vero che è ritornato in voga la Morto Giur Cioè quindi ci sarà un motivo Perché i ragazzini di 16 anni che non sa Mia figlia ha 10 anni Non conosce la Morto Giur Non l'ha mai conosciuta Non l'ha vissuta Eppure la conosce Perché comunque c'è un ritorno Appunto la voglia di ballare Divertirsi Sono comunque dei cori, dei canti popolari Alla fine noi italiani siamo forti nei canti popolari E se riusciamo a fare quello Questa cosa Riusciamo a vincere su tutto È una cosa che magari noi italiani Si siamo un po' scordati Perché vogliamo sempre ogni tanto Fare fighetta nella situazione Quando secondo me noi siamo tamarri Non c'è niente altro Esatto Esatto Se andiamo a ripescare un po' di foto Di quell'epoca e lì C'è un po' da vergognarsi Sono imbalazzanti Esatto Esatto Ascolta Ti chiederei di restare ancora lì Perché voglio ancora un po' chiacchierare con te Vorrei mettere un altro brano Dell'album Back to the Fit E paleso tranquillamente La mia amicizia con Agnese Cacciola Nonché Nesha E quindi ti chiedo La salutiamo Esatto La salutiamo tanto E quindi voglio ascoltare proprio La canzone che hai fatto insieme a lei Ed è And I Go Con Nesha E poi ti ritroviamo per altre due tre domandine Va bene? Ok Ok Che hai a tra poco Resta lì DJ Jump featuring Nesha And I Go Stai ascoltando Paolino Express Su Radio Codò And I Go Nesha featuring DJ Jump Anzi DJ Jump featuring Nesha Che è sempre qui al telefono con noi Vero? Eccoci Sì Ecco Questo è un altro dei singoli Presi appunto da Back to the Fit Quest'album che possiamo trovare ovunque Ma anche fisicamente Vero? Sì Abbiamo fortemente voluto la coppia fisica Perché appunto per ricordarci Che noi arriviamo nel 2000 Quindi Vogliamo un CD fisico Perché comunque gli amanti del genere Sai Vogliono qualcosa di in mano No? Da toccare Certo Esatto Esatto E loro lo trovano Lo possono trovare in tutti i negozi di dischi Mondadori, Feltrinelli Tutti gli altri Su Amazon Così lo portano direttamente a casa Senza problemi Lo dico sempre Che magari uno vuole farsi lo sbattimento Oppure ovviamente su tutti i digital store Da iTunes, Google Play, Apple Music E ovviamente su Spotify Mettetelo nella vostra playlist Nei preferiti E condividetelo E ballatelo E ballatelo E ballatelo Ma c'è una canzone dance Non necessariamente italo dance Che è nel tuo cuore Magari ecco Non degli artisti che hai coinvolto Sennò poi facciamo le conferenze Esatto Allora C'è Be Goes the Night Dei Coro Che tra l'altro Ha fatto Paps Sì Non lo sapete Ma è così Uno dei coproduttori Di quel disco Perché è stato Il mio primo vinile Acquistato nel 95 Quindi quel vinile lì Quella canzone C'è quella che io Mi porto un po' dietro Poi vabbè Se parliamo di mie creazioni pure La canzone che io amo di più In assoluto È Love is Gone Perché mi ha aperto un po' Il mondo Ero stato fermo per anni Con il disco Mi ha riaperto le porte Della discografia E anche delle serate Quindi C'è Love is Gone per me Ok Poi dedicato a mia figlia Ci sono tante cose Cioè in ballo Quindi Però vabbè I dischi che faccio Ovviamente sono due creature Come tu ne sai Certo Sono tutti i venti Certo Sì 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 Ascolta Sappiamo Che stai suonando Questi brani E porti Back to the Fit Anche in diversi locali In diverse serate Ce n'è qualcuna Imminente Guarda Siamo Questo mese qua Ho deciso di stare un po' Fermo per fare la promozione Perché giustamente Per fare tutte le Interviste radiofoniche E quant'altro Ci vuole anche del tempo Io poi Vorando anche di giorno Faccio un po' fatica A gestire tutto Poi da fine febbraio Partirò con Quattro date Sarà una al 28 A Palagonia Catania Poi avrò L'uno In piazza Cineale Il carnevale più grosso Che sia in Sicilia Mazza sì sì Conosco benissimo Poi sabato Sarò Scarico Un giorno che mi godo Un po' la Sicilia Domenica sarò La Vanusa Rientro lunedì E martedì Siamo in Basilicata E avrò con me King Lucas Lady Ellen Gbox Erika DJ Ross Jamie D Che meraviglia Ai Luci Robi Rossini Insomma Ci sono veramente Perché per cui faremo Questo tour Quest'estate Con un po' di artisti C'è sempre DJ Jump E degli artisti Con me All'interno dell'album Questa è una cosa Anche bella Perché comunque Si ha un format diverso Venite a sentirci Perché comunque È veramente bello Ascolta ma Mi sembra di aver capito Anche dai tuoi vari post Che sei uno Che non c'ha voglia Di fermarsi molto facilmente Di riposarsi E mi sembrava L'udessi anche già Al volume 2 Sì Stiamo lavorando Già per voi Come si dice Lavori in corso Work in progress Sì Stiamo Siamo in fase Ancora Di capire Chi poter Mettere nell'album Che mi dava Le simonibilità Insomma Siamo ancora Diciamo sulla base Della carta Come buoni ingegneri Prima facciamo Il disegno sulla carta E poi cominciamo A costruire Sicuramente Sarà un'altra Bella annata Pesante Per me Per Jenny D E Maxwell Che ricordo Che sono i miei Co-produttori Del disco Anche se poi Figuro io Come interprete Però Maxwell E Jenny D Hanno fatto Il 50% A testa Di dischi Con me Quindi Li ringrazio Perché hanno avuto Una pazienza Pazzesca Come anche Magic Box Tristano E come anche DG Ross In alcuni Dischi Che ha Supervisinato Ovviamente Tutta la parte Dell'album Con me Perché era L'editore Quindi comunque Siamo già al lavoro Adesso Devo tirare un po' Maxwell e Jenny A incominciare A metterci Qualche idea Perché Insomma Sembra Ma novembre È vicino Diciamo Sì Esatto Vabbè Intanto c'è un'estate Bella carica Che ti aspetta Sicuramente Io ti ringrazio Allora Ricordo Back to your feet Un album Molto bello E molto ben fatto Per gli amanti Della dance Italo dance Anni 92 Ma non solo Ma anche chi vuole Ballare tutt'oggi Ce n'è bisogno E ti chiudiamo Con una canzone Dove è incluso Anche una voce maschile Quella di Jeff EJ Degli Eiffel 65 Che voce Che voce Esatto Assolutamente Un grande Un grande personaggio Un grande amico Che saluto Che appena è entrato Tra l'altro Dall'Australia Che era in tour Che ha voluto Partecipare Anche lui Fortemente All'album E che devo solo Ringraziare Perché comunque Ha una voce Pazzesca E il brano A me fa impazzire A livello di sonorità Poi Allora Ce l'ascoltiamo Grazie DJ Jump Grazie a te Grazie a voi Un bacione a tutti Buona estate Buona estate Noi ci ascoltiamo Quindi DJ Jump Featuring Jeffrey J Con The Side Da Back to the Fit